notizia straordinaria inventata pillola di colore rosso per alimentare l'autostima ad assumersi tre volte al giorno preferibilmente lontano dei pasti beh sarebbe fantastico avere a disposizione una super pillola di colore rosso o anche giallo per alimentare ogni giorno la tua autostima hai l'autostima bassa prendi la pillola rossa ti senti con il morale a terra altra pillola di colore rosso sarebbe fantastico appunto ma non esiste nessuno e sottolineo nessuno è in grado di fornirti una super pillola per alimentare la tua autostima nessuno è in grado di far crescere una sana autostima dentro di sé senza un lavoro faticoso e costante sui propri pensieri pillole magiche non ne ho da suggerirti ma bada che non ne ha nessuno e non sono in vendita non esistono però se la tua autostima in questo periodo zoppica un pochino vai su amazon e acquista il mio mini book eserciziario di autostima vi troverai ben 19 esercizi pratici per aiutarti a modellare a ristrutturare ad alimentare la tua autostima ma bada che non ci sono effetti speciali non c'è nessuna super pillola contenuta nelle book è un ebook molto pratico quindi gli esercizi li dovrai fare perché se non li fai non accade nulla l'autostima resta quella che è dunque 19 esercizi pratici da compiersi almeno uno ogni giorno per modellarla farla crescere nutrirla la tua autostima trovi il mio eserciziario su amazon ti dicevo un investimento che si può fare io sono giancaro fornei sono un coach un formatore motivazionale sono quello che a rete chiamano tutti il coach della donne per la mia grande esperienza di lavoro proprio con l'universo femminile vienimi a trovare coachingperdonne.com il mio blog principale oppure la mia pagina principale su facebook giancaro fornei naturalmente e se hai una domanda da pormi da chiedermi scrivimi a info chiocciola giancaro fornei.com e ricorda le pillole magiche sull'autostima non esistono devi lavorarci devi praticare su di te e devi lavorare sui tuoi pensieri e l'unico modo che tu hai per far sì che la tua autostima possa crescere e diventare forte e sana un grande grandissimo abbraccio